La musica come strumento di integrazione e inclusione parte da questo concetto semplice, il concerto Christmas with End, organizzato dalla rete disabilità ROAD e da diverse associazioni presenti per dare la possibilità a tutti di comunicare e vivere un Natale migliore. Abbiamo voluto questa iniziativa in quanto crediamo molto nel lavoro che stiamo facendo con i ragazzi diversamente abili, crediamo molto anche nel potere della musica, quale strumento di integrazione e di inclusione, infatti i ragazzi anche attraverso il canto corale imparano a stare insieme, imparano le regole e per loro comunque è anche un modo di divertirsi e di essere protagonisti per una serata. La musica è un dono per tutti e la partecipazione delle associazioni che si occupano del linguaggio dei segni ne è la dimostrazione. Pensiamo che la musica va donata a tutti, anche per chi non sente e la lingua dei segni naturalmente nella modalità performer può portare la musica anche alle persone che hanno problemi di sordità. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.